Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi apriamo ben quattro bustine di tempesta argentata come vedete non facciamo video da un pochino però siamo tornati ben con quattro bustine una l'aprirà mia sorella Ogiole non è vero Ogiole, Isabel ok, Anzi, mi ti è io qual è gioda? è di avversa che ti trova in mezzanino non è vero, non è vero è vero è vero è vero Non sento grattare. Ok. Una, due, music, music, serrosed, sirvi, espur, drappini, niente. Fammi, adesso tocca a me. Vediamo che ci trovo. Ok. Prima Agostina? Niente. Vai, se l'apro io. Perché non si apre mai con me? Si apre mai un bagliere. Se l'apro io? Grazie. Si prende parte mia. Eh? Non è che se l'apri questa parte tua. No, dammi, non faccio io, ho capito. Vai, speriamo. No. Sì, lo so. Codice, ragazzi. Uno. Capito. Allora, Lisa, ne devi mettere quattro. Ancora? Ancora tre. Sai rile. Guおお. Sì. Eva, ti avete avanti? La teсть è avanti. Qu based. Eva. ihara, ti vai? Ci vai ti ecco? 2 마음i. Sì. Si, P crannellus non puoi sapere niente Victoria. Ma è avanti? ragazzi questi due pacchetti ragazzi la fortuna è finita guarda che bello non sento brancare energia polson dragonite toxelad draffini clint sponfus mogidemaru espur adriano uuuuh sigillo forestale di astro questo tre lo vedo puoi vedere dai ragazzi non è andata molto bene però perché finora abbiamo trovato solo una di astro almeno dovevamo trovare l'uglia di astro ultimo pacchetto speriamo in una in una in una in una volta ragazzi ma la cosa che spero che io che faccio qualcosa di raro codice no no codice nero no codice nero badia bata ragazzi ho visto qualcosa Barbe, Clang, Cadio, Cino, Urmei, Donji, Spinnery, Ragazzi, o una V o una V Max. Alza piano, e una V a Fulard. Piano, Alzi. Uuuuh, bella. Manager di Fulard. Questa mi ricordava che era molto presa ora, però non lo è. Molto bella. Ok, ragazzi. Quando c'è qualcosa, c'è così, ci trovo qualcosa. Quando c'è così, non ci trovo qualcosa. Ciao. Poi, vi faccio vedere un altro colpino. Iniziamo con il codice di Astro. Ma è il codice di Astro. Ma è la giornata di Fulard. Cosa mi la resta? E se glielo foro le stelle di Astro. Io adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.